Torino, è il Torino Film Festival e sono veramente onorata che il film The Girl in the Fontaine venga presentato in questo festival così importante, sempre interessato alle innovazioni e ai giovani registi di tutto il mondo e con il rispetto della tradizione, grazie alle meravigliose retrospettive che permettono la visione dei capolavori del passato. Torino, città meravigliosa, grazie.